C'è un sole che spacca le pietre qui a Roland Garros, quindi mi fermo un paio di minuti a parlarvi di un film. Avete mai visto Meshpoint di Woody Allen? Il film del 2005 ha visto nel cast una super sexy Scarlett Johansson, eppure la Comtesse è lei il personaggio che è emerso maggiormente. Ma parliamo invece di lui. Il protagonista, Chris Wilton, Jonathan Rhys-Myers, perché è uno dei pochi personaggi che incarna tutti e sette i peccati capitali. Allora, raccontiamoli. Ascidia? Oui, Chris si lascia vivere. Decide di non avere talento per fare il tenista professionista, ma non ha nemmeno voglia di insegnare vita. Non è costretto a sforzarsi troppo per capire cosa sarà, visto che lo decide per lui la fidanzata che non ama. Ma che diventerà comunque sua moglie, la madre dei suoi figli. Avarizia e Gola li metto insieme e aggiungo soldi. Che volgarità, parlare di soldi per la Comtesse non si dovrebbe mai fare. Eppure per Avarizia, Gola e i soldi il nostro Chris diventerà un assassino a sangue freddo. Ve l'ho raccontato, mi dispiace. Invidia? Chris vuole la donna del suo amico, oui, proprio così farà di tutto per averla. Eppure Tom gli ha offerto un futuro e non solo, diventerà suo cognato. Ira? L'assassino Ira Kondo l'abbiamo ben presente, in tutti i film, insomma. Qui c'è un'ira più sottile, più meschina se possibile. Woody Allen non tenta nemmeno di giustificarla. Lussuria. A onore del vero, le scelte né di sesso non sono presenti, ma sono citate e velatamente raccontate. Come quel primo incontro tra Chris e Nora Scarlett, in cui lei dice «Te l'ha mai detto nessuno che giochi molto pesante?» E lui, sbilanciandosi per la prima volta in tutto il film, risponde «Te l'ha mai detto nessuno che hai delle labbra molto sensuali?» Superbia. Chris uscide. Si sente superiore alla legge e a Dio in cui lo stesso crede. E non sarà punito. Cosa che accetta senza battere ciglio. Bien, vi ho convinti? Allora continua a giocare. Ambrosio le pale! Ambrosio le pale!